ciao a tutti e benvenuti nel video collezione shoujo arriva finalmente dopo tanto tempo questo video che mi avete richiesto davvero in tantissimi dove andremo a vedere nel completo tutta la mia collezione dedicata esclusivamente ai manga shoujo e ai manga josei faccio questo video collezione esclusivo perché lo shoujo è il mio target preferito e spero di trasmettervi tutta la mia passione spero lo possiate trovare un video utile sia per scoprire nel caso un target che non conoscete per approfondirlo vedere i grandi titoli che sono stati pubblicati in italia e tutto anche il materiale inedito che purtroppo non è stato ancora pubblicato andremo a vedere anche i pezzi più rari della mia collezione quindi mi raccomando rimanete fino alla fine perché nella parte finale vi mostrerò i prodotti giapponesi davvero ricercati per quanto riguarda invece l'aggiornamento della collezione completa vi ricordo che arriverà ai 10.000 iscritti ormai non manca pochissimo io vi supportarlo con un mi piace con un commento con una condivisione un'iscrizione al canale quello che volete per me è una grande fonte di supporto soprattutto perché per realizzarlo ci ho messo davvero tanto tempo c'è tanta ricerca dietro nel caso grazie mille a tutti e vi auguro una buona visione e direi di iniziare questo video collezione manga shoujo dalle mie mangaka preferite abbiamo principalmente una parte dedicata allo shoujo manga passato siamo tra gli anni 60 e 70 autrici che hanno totalmente rivoluzionato il target abbiamo già delle chicche giapponesi con autrici inedite materiale inedito che non vedo l'ora di mostrarvi e partiamo dalla mia mangaka preferita moto agio probabilmente la mangaka donna più influente di sempre in giappone viene considerata come la mangaka shoujo più amata di tutti i tempi fa parte del gruppo delle 24 e consiglio anche di recuperare a tutti per chi non l'avesse visto il video che ho fatto approfondito sul gruppo delle 24 comunque per la sensei abbiamo della collana di j pop la moto agio collection il clan dei po il cuore di thomas anshin la dea di mezzata star red marginal barbara e e cruel god rings con i sette volumi per ora usciti qui in italia abbiamo anche il volume inedito lilleo con l'edizione inglese continuando con siamo in 11 portato da star comics e tre opere prese direttamente in giappone che sono inedite ea de november gymnasium e la figlia dell'iguana tutte con la bellissima edizione bunco giapponese moto agio ha scritto tra i più grandi classici dello shoujo tra le opere più belle di sempre a mio parere ed è un'autrice che per essere apprezzata bisogna partire in ordine cronologico almeno con il materiale uscito qui in italia sarebbe opportuno sempre partire dal clan dei po che io considero per davvero la bibbia dello shoujo manga che segnò una vera e propria svolta negli anni settanta a livello stilistico introdusse alcuni stilemmi che influenzarono tutte le opere successive senza il clan dei po gran parte dei titoli che poi sono usciti dopo non sarebbero esistiti ed è ovviamente una delle mie opere preferite in assoluto ed è anche la mia preferita della sensei ma davvero tutto il materiale che ha scritto dimostra la sua grande maturità la sua profondità psicologica il suo dono toccante per la narrazione e la sua grande visione personale del manga la sensei moto agio ha contribuito anche alla nascita di alcuni sottogeneri e generi che poi sono stati fondamentali per lo shoujo vi ho mostrato proprio de november gymnasium con l'edizione giapponese perché un manga molto importante nella carriera dell'autrice scritto nel 1970 lo troviamo come prima storia di questo volume è un racconto breve che parla apertamente dell'amore omosessuale tra due giovani ragazzi in un collegio fa da precursore per tematiche al cuore di thomas altro suo grande capolavoro in questo volume breve poi troviamo altre storie molto interessanti come pur mama che già dimostra la grande profondità psicologica che moto agio cerca di dare ai suoi racconti tutto il materiale della magaca per me è indescrivibile come non citare la sua parte sci-fi fantascientifica opere proprio come star red marginal barbara il fondamentale siamo in 11 dove moto agio si ispira ai maestri del passato e reinterpreta a suo modo la fantascienza con un messaggio tutto suo storia di fuori di ogni schema e cruel god rings che attualmente in corso qui in italia è la sua serie più longeva e diciamo quella di più grande maturazione per la sensei gli sono davvero grato per tutto il materiale che ha creato senza moto agio sicuramente la mia grande passione per questo target non sarebbe mai sbocciata così è per me una delle autrici più importanti in assoluto insieme anche a keiko takemiya abbiamo qua il suo capolavoro il poema del vento e degli alberi attualmente il manga shoujo completo più bello che abbia letto la takemiya con il poema introdusse grandissime innovazioni stilistiche narrative anche lei fa parte del gruppo delle 24 come altre manga che andremo a vedere tra poco si allontanò al layout convenzionale dei disegni di quegli anni creando il suo stile unico e dinamico la storia di gilbert e serge non la potrò mai dimenticare un capolavoro ancora oggi del tutto inarrivabile sempre del poema del vento e degli alberi posseggo anche dei volumi di alcune bunco edition giapponesi realizzate per diverse occasioni del manga posseggo i tre volumi della classica bunco copertine davvero spettacolari e posseggo anche possiamo dire la bunco nella nuova edizione con copertine del tutto nuove qui nel caso ho preso il primo volume in giappone da collezione poi comunque delle mangaka qui presenti vi andrò a mostrare altro materiale giapponese per approfondirle perché abbiamo dei pezzi davvero unici sempre della takimiya abbiamo anche la bunco edition di faraono aka che è il manga che precede il poema del vento e degli alberi che è stato molto importante nella carriera della sensei senza faraono aka probabilmente non avrebbe mai pubblicato il poema del vento e degli alberi e dimostra anche la grande varietà di storie a cui la takimiya si rifaceva passando dalle storie d'amore del liceo all'amore tra ragazzi dei dramma storici alla fantascienza e vi ricordo che a keiko takimiya si deve la nascita dello shonenai dato che è stata la prima in assoluto a mostrare un bacio tra maschio e maschio nel manga shoujo del 1970 in the sunroom e continuando con la takimiya abbiamo invece verso la terra che l'ho inserito è un manga shonen però dato che ci sono tutte le opere di queste grandi autrici era giusto citarlo perché è stata un'altra opera di rilevanza importantissima qui abbiamo invece suon il cigno di kyoko ariyoshi uno dei più grandi manga shoujo sul balletto purtroppo è interrotto ormai da tantissimo tempo per goen ed è un vero peccato si era puntati davvero su un titolo fondamentale per l'evoluzione dello shoujo ed è un peccato che sia stato fermato così bruscamente e parlando di altri manga importantissimi abbiamo attack number one di chikako urano nell'edizione bunko edition di jpop scritto nel 1968 è il manga shoujo sportivo per eccellenza quello che ha fatto nascere un vero e proprio filone di manga sportivi e nonché classificato anche come uno dei primi manga sport con shoujo più avanti vedremo altri titoli che si sono ispirati ad attack number one alla storia di chikako urano anche come impostazione ebbe un grandissimo impatto non solo sulle ragazze giapponesi alla fine degli anni 60 ma anche sui ragazzi da noi conosciuto con il nome di mi mi la nazionale di pallavolo l'anime che invece uscì nel 1969 cosa si può dire su un manga che ha ispirato totalmente una generazione con le sue grandi tematiche che poi sono state proposte in tutti gli anni 70 addirittura arrivando all 80 e il 90 si ispirò anche nella sua creazione all'impresa della squadra di pallavolo giapponese alle olimpiadi di tokyo del 64 quando vinsero in finale contro la russia e si guadagnarono il nome di streghe dell'oriente se amate i manga sportivi se amate gli shoujo attack number one non può assolutamente mancare se parliamo di autrici fondamentali dello shoujo non possiamo non citare ryoko ikeda con tutte le opere uscite qui in italia inizialmente le rose di versailles abbiamo il volume speciale per i 50 anni delle rose di versailles uscito solo in giappone e acquistato in giappone all'interno si trovano delle bellissime illustrazioni con i commenti di ryoko ikeda si va a ripercorrere i 50 anni di storia del manga parlando anche dell'anime con la guida agli episodi illustrazioni del tutto inedite e il monologo di ryoko ikeda del 2022 un grande volume celebrativo e commemorativo nei prodotti giapponesi poi abbiamo altro materiale di ryoko ikeda ci spostiamo poi con caro fratello rodin con l'edizione inglese tutta la finestra di orfeo costandoci con eroica completo in 12 volumi portato da magic press l'anello dei nibelunghi dove troviamo invece ryoko ikeda alla storia ed erika miyamoto ai disegni la sua assistente e concludendo con la miniserie in due volumi a yako abbiamo anche da collezione l'ultimo volume il diciottesimo giapponese della finestra di orfeo che tra l'altro è la mia opera preferita in assoluto di ryoko ikeda mi sembra scontato dire che sia stata una delle prime ad aver trattato la componente storica nello shoujo manga si può classificare anche lei nel gruppo delle 24 e fu comunque una delle prime nelle rose di versailles a trattare in un modo concreto una storia con una narrazione più complessa incentrata sulla sessualità e incentrata sulla politica ed è stato anche uno dei primi manga shoujo ad ottenere un grande successo nel mainstream comunque l'ikeda è sempre stata molto brava caro fratello fondamentale per l'evoluzione dello yuri cloutin uno dei primi manga in assoluto a trattare tematiche transgender che cosa si può dire sulla meravigliosa storia della finestra di orfeo che a mio parere racchiude un po quella che è stata l'evoluzione della mangaka sia per contenuto sia per stile di disegno rappresenta tutta l'evoluzione di ryoko ikeda stiamo parlando comunque per questi ripiani di autrici di un calibro immenso qui a fianco invece abbiamo l'unico volume uscito qui in italia della grandissima machiko satonaka un'altra delle autrici più importanti dello shoujo il volume cleopatra uscito per yamato edizioni sempre della satonaka troviamo tre volumi con la bunco edition giapponese tra cui raffaello e di nuovo cleopatra invece questa volta in giapponese brevemente per farvi anche capire chi è machiko satonaka e perché dovrebbe essere approfondita o comunque portata in un certo modo in italia segnò una grande svolta per il manga in generale negli anni 60 e 70 debuttò nel 1964 ancora studentessa aveva 16 anni è una grande rappresentante delle artiste donne della generazione del baby boom in giappone le cui carriere sono iniziate con le pubblicazioni dei manga grazie al debutto di magico satonaka e il successo che stava ottenendo diventare mangaka per una donna non era più un sogno assurdo ma diventava un obiettivo realistico per le giovani lettrici per autrici così importanti bisognerebbe fare dei video più approfonditi e spiegare il tutto a meglio ci sono però delle mangaka fondamentali degli anni 60 e 70 80 e così via che purtroppo sono inedite qui in italia che hanno contribuito all'evoluzione e allo sviluppo dello shoujo manga non esiste solamente il gruppo delle 24 c'è tanto tanto altro e qualcosa vi andrò a mostrare anche dopo ma se rimaniamo nel tema del gruppo delle 24 abbiamo qua le opere giapponesi di yumiko shima abbiamo tre sui volumi unici e watano kuniyoshi completo in quattro volumi nella sua bunco edition sono tutte bunco edition prese tutte a mandarake in giappone yumiko shima altra autrice del gruppo delle 24 e da molti critici viene considerata come l'autrice shoujo più influente soprattutto per la sua innovazione visiva specialmente nel design dei pannelli che rappresentano l'emozione del disegno portò grandissime innovazioni come il monologo frammentato interiore allo shima poi con watano kuniyoshi è accreditata la nascita della figura della ragazza gatto leggendo quest'opera anche i volumi unici dello shima vi accorgerete del suo grande tratto nella sua impostazione unica nelle tavole i pannelli non in sequenza il costringere il lettore a guardare avanti l'intera pagina per comprendere le atmosfere riusciva a riferirsi in modo concreto e reale alle ragazze giovani di quel tempo andando a trattare tematiche come le ansie delle ragazze nell'adolescenza la difficoltà nel diventare adulte fisicamente e demotivamente un'autrice davvero magnifica che ho avuto modo di approfondirla e scoprirla proprio con queste opere giapponesi è inedita qui in italia non so neanche a dirvelo sarebbe importantissimo se arrivasse o comunque se venisse pubblicata al di fuori del giappone sempre del gruppo delle 24 abbiamo un volume in spagnolo di yasuko oike e keiko nagita che è miriam blue uscito per areki yasuko oike altra autrice del gruppo delle 24 andremo a vedere poi nel video suo materiale giapponese molto ricercato questo è uno dei pochi volumi usciti al di fuori del giappone e arrivato all'estero insieme a un'altra opera dell'autrice che è stata pubblicata in america che è from heroica with love che anche il manga più famoso in assoluto della mangaka questo è un suo volume unico troviamo i suoi disegni è comunque un grande materiale di studio e un grande materiale di approfondimento per queste mangaka questo è solo un pizzico della grande meraviglia dello shoujo passato questo angolino invece è dedicato a quello che attualmente è il mio manga shoujo preferito vi sto parlando del grande sogno di maia di suzue miuchi abbiamo qua l'edizione in 49 volumi di star comics tutti i volumi usciti per ora in italia e ovviamente il 49 è anche l'ultimo volume uscito in giappone per quello che è il capolavoro assoluto di suzue miuchi e uno dei migliori manga shoujo mai sviluppati sapete l'ho detto tante volte anche nei video del grande legame che ho con quest'opera davvero mi ha segnato moltissimo e qui sopra troviamo anche il set di gashapon uscito in giappone e queste sono le uniche figures mai uscite del grande sogno di maia per la precisione si chiama glass no kamen memorial set sono realizzate davvero bene e ritraggono i personaggi più iconici del manga anche in alcune scene che risultano importantissime un manga così ben sviluppato così articolato fatico a trovarlo il grande sogno di maia è davvero unico nello sviluppo nella resa e nella grande dote di suzue miuchi minuziosa in tutti i particolari e per me ha proprio creato tra le saghe più belle dello shoujo manga io spero e sono fiducioso che prima o poi gli venga dato il giusto finale che merita e sempre per quanto riguarda suzue miuchi abbiamo il suo best works completo in 13 volumi le migliori storie dell'autrice che sono state racchiuse appunto in quest'opera e anche questa volta mostra quello che è il suo grandissimo talento spaziando nelle tematiche nei generi trattati un'impronta totalmente diversa rispetto al grande sogno di maia ci sono storie horror storie thriller storie fantascientifiche se ci metta nella storia nello slice of life dimostra tutta la sua grande abilità suzue miuchi è sicuramente tra le più grandi mangaka della storia dello shoujo e qui sopra troviamo anche dei volumi dell'edizione giapponese del grande sogno di maia il 39 il 40 il 41 e il primo volume della bonko edition invece dietro al grande sogno di maia troviamo un'altra incredibile autrice che è reiko shimizu con imitsu the top secret e il suo capolavoro la principessa splendente imitsu the top secret completo in 12 volumi e la principessa splendente in 28 reiko shimizu purtroppo è un'autrice a cui spesso non viene dato il giusto peso queste sono le uniche due opere che sono state pubblicate qui in italia e dimostra una capacità unica nel sviluppare la sua storia i suoi personaggi e creare delle storie che sono estremamente innovative e fuori dagli schemi partendo da imitsu una storia toccante che mischia dramma con thriller fantascienza horror letteralmente svalorditivo nella sua resa vi ammetto che leggendo imitsu the top secret ho avuto più volte i brividi mi ha fatto più volte emozionare e lo considero davvero un'opera gigantesca ma il suo capolavoro è proprio la principessa splendente portato da planet manga ormai un bel po di anni fa e anche qui siamo di fronte a uno dei migliori manga shoujo in assoluto del tutto innovativo reiko shimizu si supera nella stesura di questa storia e reinterpreta proprio la storia della principessa kaguya della principessa splendente dandogli un'impronta del tutto nuova come il grande sogno di maia anche la principessa splendente lo reputo tra i migliori manga shoujo in assoluto e uno dei manga più belli che abbia letto passando invece a fianco abbiamo tutto l'angolo dedicato a dayazawa autrice che non credo che abbia bisogno di tante presentazioni andiamo un po vedere che cosa c'è partendo dal meraviglioso art book di nana first illustration l'edizione italiana di panini art book magnifico soprattutto vedere le illustrazioni di dayazawa a colori a fianco abbiamo l'edizione di paradise kiss per i suoi vent'anni ultimi raggi di luna i cortili del cuore dei volumi presi direttamente in giappone il primo dei cortili del cuore e tre opere inedite di dayazawa che sono tutte opere brevi e anche tra le prime opere che abbia scritto la mangaka pubblicate solamente in giappone e mai arrivate qui in italia però è del fantastico materiale inedito comunque anche in giappone sono dei volumi abbastanza difficili da essere reperiti a fianco abbiamo non sono un angelo nella nuova edizione di planet manga in cinque volumi mar in blu e la vecchia edizione di ultimi raggi di luna e anche la steel box di nana salendo abbiamo proprio tutto nana nei suoi 21 volumi usciti finora e a abbiamo un altro pezzo grosso possiamo dire preso direttamente alla tower records di shibuya è la soundtrack dell'anime di nana che comprende all'interno tutte le canzoni infatti è il nana best album tante volte ho dato i miei pareri su ayazawa per chi fosse nuovo la mia opera preferita conclusa è ultimi raggi di luna perché anche la più sperimentale quella dove ayazawa osa di più rispetto anche alle sue altre opere precedenti nana ovviamente è il suo più grande manga e non ha bisogno di nessuna presentazione ha fatto la storia dello shoujo e ancora oggi continua ad appassionare tantissime persone nonostante come anche il grande sogno di maya non sia concluso tutte le sue opere ti lasciano un qualcosa come anche il vecchio mar in blu una delle sue primissime opere non sono un angelo una fantastica commedia sentimentale che riesce a far benissimo riflettere e i cortili del cuore e paradise kiss sono due grandissimi manga l'autrice in ogni suo titolo dimostra di essere pazzesca scendendo invece troviamo tutti i volumi usciti per ora di yona dal volume 1 al 41 l'ultimo volume uscito fino a questo momento in italia uno dei migliori manga attualmente in corso di pubblicazione la kusanagi sta creando un manga che sicuramente ricorderemo anche tra moltissimi anni yona ogni saga di yona ti lascia un qualcosa salendo invece abbiamo tutte le opere pubblicate qui in italia di un'altra autrice che apprezzo moltissimo che è chie shinoara partendo dalla miniserie in 5 volumi romance of the darkness il sigillo azzurro in 11 e anatolia story completo in 28 volumi con anche primo volume in giapponese preso direttamente in giappone altra autrice di cui si parla molto molto poco considerate che in giappone viene considerata la regina dello shoujo horror e leggendo le sue opere si può scoprire il perché partendo dalle prime due che sono entrambe molto valide soprattutto il sigillo azzurro per come mischia le sue parti thriller al grottesco e ovviamente all'horror creando una storia molto dinamica e sicuramente particolare e soddisfacente nella sua rese anche nel finale ma il suo più grande manga è anatolia story anche questo lo considero uno dei capolavori dello shoujo arrivato qui in italia a tutto al suo interno e troviamo soprattutto chie shinoara a una forma smagliante sia nella narrazione nel continuo della storia ma anche nel suo disegno a suo massimo splendore tavole che ti fanno sognare ha uno stile particolarissimo in anatolia story troviamo tutti i temi a lei cari e anche di più ci sono parti un pochino più inquietanti ma fondamentale è la fantascienza come si mischia alla storia e la resa della parte sentimentale e politica sublime e spettacolare a fianco abbiamo invece cia yafuru quattro volumi usciti per ora in italia purtroppo si precede molto lentamente con goen per quello che in giappone uno dei manga josei più validi usciti negli ultimi anni un manga sul karuta attualmente sembra essere ripreso speriamo per il futuro ovviamente dietro a tutti questi manga ci sono altri manga che andremo a vedere dopo ora invece andiamo a fianco dove troviamo altre opere e autrici molto interessanti la prima è mars di fuyo misorio e sempre di fuyo misorio abbiamo free fuyo misorio è un'autrice che non ha scritto solamente shoujo ma in questo video andremo a vedere principalmente quelli mars è un ottimo titolo probabilmente il miglior manga shoujo di fuyo misorio e potrei consigliarlo anche per approcciarsi al target dato che ha avuto relativamente da poco una nuova edizione che è questa in otto volumi è una due in uno portata da star comics dopo svariati anni e costa 8 euro a volume quindi praticamente 4 euro per ogni volume si paga e vi andate comunque a leggere un manga con la m maiuscola estremamente drammatico ma vale moltissimo stesso discorso si può fare anche per free è un'edizione questa più difficile da trovare questa volta incentrato sulla musica ed è proprio anche per questo che apprezzo molto fuyo misorio perché è in grado nei suoi manga di trattare tematiche diverse di cambiare genere ma comunque avendo sempre la sua impronta riconoscibile abbiamo poi le situazioni di lui e lei completo nell'edizione big love edition di dinit anche questa è un'edizione due in uno e per me la miglior edizione uscita qui in italia del manga la commedia sentimentale che possiamo dire che è stata molto importante negli anni 90 è diventato famosissimo ancora oggi è molto valido riesce a far ridere e creare delle dinamiche davvero divertenti e interessanti andiamo spediti con proteggi la mia terra di saki iwatari e sempre di saki iwatari abbiamo global garden proteggi la mia terra uno dei migliori manga a cavallo tra gli anni 80 e il 90 arrivati qui in italia ripubblicato per fortuna con questa nuova edizione da parte di panini c'è anche su sequel che purtroppo non verrà ripubblicato con la nuova edizione è un manga sicuramente da capire non di facile interpretazione sperimentale ed onirico nella sua stesura molto ingarbugliato molto complesso sarebbe sicuramente da rileggere con una rilettura a mio parere si può capire molto meglio il messaggio e ciò appunto che voleva comunicare saki iwatari ciò non toglie che resta un must per lo shoujo global garden purtroppo è un'altra buona opera ma non ai livelli ovviamente di proteggere la mia terra poi qui abbiamo due adattamenti manga di yoko anabusa che sono orgoglio e pregiudizio e emma portati da goen scendiamo in questo scomparto dove troviamo altre grandiose opere iniziamo con jenny la tennista di sumika yamamoto uno dei migliori manga sportivi che abbia letto e uno dei migliori manga spokon shoujo la storia dello shoujo sportivo ha una grandissima tradizione è stata molto importante anche per l'evoluzione del manga sportivo potrei approfondire questo tema sicuramente sul canale con un video jenny la tennista si ispira molto nella sceneggiatura, nelle situazioni al capolavoro attack number one ma la yamamoto riesce a dare un'impronta molto personale alla storia è sì un manga sportivo ma analizza tutti quelli che sono i sentimenti dell'uomo una riflessione sulla condizione umana con un messaggio meraviglioso nel suo finale spostandoci invece troviamo life di keiko suenobu probabilmente il miglior manga che abbia letto che tratta la tematica del bullismo keiko suenobu purtroppo altra autrice a cui non è stata data la giusta importanza qui in italia ma guardate già quanti manga sono stati pubblicati anche nel passato che purtroppo oggi nel 2024 risultano praticamente dimenticati ma che sono delle vere e proprie perle e dei manga shoujo grandissimi continuando abbiamo un'altra autrice storica sicuramente una delle autrici più importanti degli anni 70 dello shoujo che ha scritto tra i migliori manga shoujo di sempre purtroppo approfondita molto poco qui in italia e ormai anche lei sta praticamente venendo dimenticata anche dagli editori è ovviamente waki yamato con l'edizione in 8 volumi di una ragazza alla moda e a fianco l'edizione in 8 volumi di new york komachi portata da gp manga sapete quanto sia rara questa edizione ci ho fatto anche un video dedicato probabilmente solo il grande sogno di maya è così difficile da essere reperito come una ragazza alla moda non mi dilungo troppo anche perché ne ho parlato spesso sul canale tutto ciò che di waki yamato per me è un must da leggere assolutamente una ragazza alla moda è un manga che ha fatto la storia dello shoujo e ancora oggi continua a farla qui sopra abbiamo anche l'edizione giapponese la bunco edition in 4 volumi l'ultima edizione uscita in giappone che potrebbe essere nel caso l'edizione che una casa editrice ripubblicherebbe edizione che ha anche delle bellissime pagine a colori al suo interno ed è un'edizione soprattutto 2 in 1 sarebbe perfetta se venisse pubblicata qui in italia andiamo avanti con tokimeki tonight renzi la strega di koi keno altro trice che è stata molto importante soprattutto negli anni 80 dello shoujo questa è l'edizione l'ultima uscita di star comics in 12 volumi che non ha data tutta la storia completa di renzi la strega ma si ferma in un preciso momento ancora oggi risulta un manga ma un shoujo molto molto valido e se prima abbiamo parlato di manga sportivi shoujo molto importanti anche la leggenda di ikari a mio parere rientra in questa categoria sa stupire per come tratta lo sport per come tratta i sentimenti dei personaggi perché tratta uno sport abbastanza di nicchia come la ginnastica ritmica e l'artistica scene di movimento di izumiaso sempre molto precise stile di disegno che si adatta perfettamente con la storia a mio parere uno dei manga shoujo sportivi più validi pubblicati qui e anche in giappone ha una certa importanza con tutte anche le nuove edizioni che le sono state presentate manga scritto vi ricordo negli anni 80 lo inserirei benissimo in una top 5 dei manga shoujo sportivi passiamo ora a questo scomparto dedicato principalmente a titoli josei che cosa accomuna questo angolo del josei che gran parte di queste autrici le troviamo sulla rivista philly young una rivista josei fondamentale molto sperimentale che appunto pubblica manga di alcune delle autrici josei più bravi in assoluto partendo qui da piece of cake di georgia sakura la stessa autrice anche di dance dance dancer miniserie stupenda e molto riflessiva poi abbiamo body and soul di erika sakurazawa altra miniserie portata da goen vedete quante qui sono state portate da goen molto valida diciamo anche sulla stessa scia di piece of cake per tematiche trattate e ho messo anche mario kazaki perché come tematiche come genere si assomiglia molto in ciò che va a trattare ma mario kazaki io la ritengo una delle autrici recenti più bravi in assoluto di questo target nel suo modo di narrare nel suo modo di disegnare paneling innovativo impostazione delle tavole che raramente si vede attualmente abbiamo qui quella che per me è la sua miglior opera nonché uno dei migliori manga josei che abbia letto che è supplement ma comunque tutte le opere di mario kazaki sono molto valide abbiamo qua anche and continuando qui con stringimi sempre di goen sudore miele single per sempre se qualcuno non si fosse mai approcciato a questa autrice mi raccomando rimediate perché ha una visione del mondo tutta sua e deve essere assolutamente recuperata andando invece in alto abbiamo se il mio cucciolo di yayoi ogawa altra autrice interessantissima anche qui tematiche simili a ciò che abbiamo visto prima completo e soddisfacente abbiamo anche un suo volume unico e a fianco invece il meraviglioso cura game di akiko gashimura autrice troppo sottovalutata nei video ve ne parlo spesso e vorrei che venisse approfondita qui in italia dalle case editrici la sua vena comica è un grandissimo punto di forza e leggendo appunto cura game si nota quanto sia brava e tutto l'impegno che c'è nella stesura di questo manga purtroppo attualmente è molto molto difficile da essere reperito completo ma forse per me io porterei tutto il materiale di akiko gashimura qui in italia perché ha scritto tante altre opere molto valide e cura game entra di diritto tra i manga josei più belli che abbia letto stesso discorso si può fare per disegna kakukaku shikajika sempre di akiko gashimura questa volta un suo manga autobiografico che ci parla apertamente del suo rapporto con il maestro che possiamo dire che gli ha insegnato praticamente tutto si merita tutti i premi che ha vinto in giappone perché come cura game lo reputo tra i migliori manga josei in assoluto arrivati qui in italia pochi manga mi hanno dato sensazioni come disegna e come cura game salendo invece abbiamo mo yoko anno con happy mania in 11 volumi edizione vecchissima ma comunque molto grande di star comics sempre della mangaka portata da flashbook ritornando a george asakura abbiamo cuori colpiti mi inserendo i volumi fantastica che parla dei problemi dei giovani lancia dei messaggi a mio parere molto importanti ritornando a mo yoko anno abbiamo buffalo five girls e jelly beans per mo yoko anno vale lo stesso discorso di mario kazaki di george asakura di akiko gashimura è un'autrice molto sperimentale non si risparmia mai nei suoi manga non ha scritto ovviamente solo shojo solo josei ha scritto anche vari seinen che comunque posso mostrarveli dopo nel caso sicuramente stiamo tutti aspettando una nuova edizione di sugar sugar run quindi questo è un appello che faccio principalmente a star comics passiamo sotto scusate se la ripresa si fa un pochino più scura ma siamo nell'ultimo reparto della libreria le opere arrivate qui in italia di mitsuba takanashi quindi crimson hero e lui è il diavolo autrice con uno stile di disegno bellissimo soprattutto come mette la moda all'interno dei suoi manga crimson hero è un manga sulla pallavolo quindi uno spokon lui è il diavolo invece è una commedia dove sembra possa esserci quello che è il classico triangolo ma in realtà così classico non è due bellissime opere arrivate qui in italia mentre invece spostandoci abbiamo una delle mie autrici preferite del mao shojo anzi probabilmente la mia preferita harina tanemura abbiamo tutto su materiale uscito in italia inizialmente con il volume unico yon poi jan la ladara del vento in sette volumi la sua migliore opera che è full moon time stranger kyoko in tre volumi proseguendo con the gentleman aliens cross e ogni nostro venerdì anche il volume unico squadra speciale mistress fortress tutto con questo effetto abbiamo ovviamente anche la spada incantata di sakura un'altra storia mao shojo molto valida e probabilmente visivamente a livello di disegni la sua migliore tante volte io ho parlato di harina tanemura full moon l'ho detto sempre è uno dei migliori manga mao shojo e attualmente con un altro che andremo a vedere tra poco lo reputo il migliore che abbia letto ma comunque tutto materiale scritto dall'autrice per me è valido rispetto a tante altre autrici mao shojo e manga mao shojo arrivati qui in italia si nota il grande divario che c'è con harina tanemura per me è proprio un passo avanti ci sono delle autrici che sono arrivate anche con la collana planet shojo vi ricordo che devono essere assolutamente riscoperte e harina tanemura è una di queste salendo invece abbiamo gas completo in 10 volumi portato da dinit e god child di kaori yuki completo in 11 le altre opere di kaori yuki sono dietro e le vedremo dopo ci spostiamo in questo scomparto abbiamo due opere a cui sono molto legato la prima è bucura gaeta di ubata yuki c'è tantissimo dramma ma ricordo ancora perfettamente ogni emozione che mi ha dato questo titolo a fianco sempre dell'autrice abbiamo forget me not in due volumi e ci spostiamo poi a kiosuke motomi beast master e soprattutto elettroshock daisy flashbook nel corso degli anni ha portato davvero tanti manga shojo ma a mio parere questi due sono tra quelli che non devono mancare in una collezione se siete appassionati di questo target in certi versi si assomigliano soprattutto per come viene trattato il dramma stranamente hanno anche la stessa durata di 16 volumi ma vi li consiglio proprio per la grande dose riflessiva che riescono a trasmettere potrebbero essere anche questi un ottimo entry point per avvicinarsi allo shojo manga andiamo avanti sempre con flashbook con il segreto dell'amicizia e good my my life di ayuko ci spostiamo e qui andiamo abbastanza velocemente con alpen rose temi d'amore completo in 14 volumi con la sua edizione sottiletta due manga della rivista giapponese ciao appunto gli ho messi vicini per questo motivo qui di fianco abbiamo il validissimo volume unico clematica shoe store di mayu sakai autrice che invece ritroveremo dopo salendo abbiamo un'autrice che sono sicuro che molti di voi conosceranno mika yamamori con una stella cadente in pieno giorno tsubaki cholo only planet con la nuova edizione di star comics e in the clear moonlit dusk ha un passo in più rispetto a tanti altri manga shojo che attualmente stanno uscendo a impronta sentimentale la sua bravura si è vista in tutte queste tre opere andiamo avanti e abbiamo made sama di hiro fujiwara serie molto difficile da essere reperita ma che non ho gradito tantissimo parte bene ma a mio parere è un passo indietro rispetto a tanti manga shojo a impronta sentimentale purtroppo non ho gradito lo sviluppo dell'opera anche perché vi ricordo che è stata allungata appositamente perché il manga stava andando molto bene in giappone è un fatto che si nota moltissimo la storia parte con delle ottime idee ma lo sviluppo e la resa finale non riesce a dare il giusto impatto e non riesce a essere assolutamente all'altezza dei primi volumi da apprezzare invece il lato comico dove hiro fujiwara è sempre molto brava ci sono altre opere che si avvicinano molto alle tematiche all'impostazione di made sama che sono nettamente migliori e alcune di queste le andremo a vedere tra poco per la fujiwara comunque non è finita andremo a vedere qualche su altro materiale tra poco adesso passiamo a tutti i manga dietro quindi c'è tanto altro materiale da andare a vedere questo angolino mi fa un po soffrire perché troviamo due autrici che purtroppo sono scomparse recentemente abbiamo qua anakimi in 23 volumi di isaia nakajo purtroppo scomparsa nel 2023 l'unica opera arrivata con italia è questa grazie ad init è un'autrice che ringrazio perché anakimi è stata davvero una lettura spensierata mi ha fatto ridere mi ha fatto emozionare mi ha donato delle bellissime sensazioni che mai scorderò a fianco invece abbiamo my love story di haruko 13 volumi molto carino anche questo la nuova vita di nina completo in quattro volumi portato da goen passiamo sopra a un'altra commedia molto valida che high school debut 13 volumi portato da star comics e purtroppo a fianco abbiamo ricordi d'amore da chrysidra da luna e lago e miss di inako ashiara purtroppo ci ha lasciati come sapete quest'anno un'enorme perdita per lo shojo manga e per il fumetto giapponese in generale ricordi d'amore la chrysidra è sulla scia molto simile a bokura gaita ed elettroshock daisy che abbiamo visto prima ho un legame speciale con quest'opera perché è una di quelle che ha fatto sbocciare la mia grande passione per lo shojo manga mi ha donato tanto e soprattutto toccato nel profondo era proprio questa la grande abilità di inako ashiara riuscire a far riflettere ma soprattutto toccare i cuori delle persone ricordi d'amore la chrysidra è uno di quei manga che non scorderò mai è una notizia che sono sicuro al 100 per cento che riuscirà ad appassionare anche le generazioni future per tematiche abbastanza simili a ricordi d'amore abbiamo anche secret unrequited love completo in 12 volumi portato da planet manga per la sua collana planet shojo questo ve l'ho consigliato più volte e so che anche molti di voi l'hanno recuperato se qualcuno di voi non l'avesse letto dovesse recuperarlo preparatevi perché è una lettura devastante adulta profonda e sviluppata benissimo abbiamo parlato prima di mezzama e iro fujiwara abbiamo qua un'altra opera dell'autrice che è yuki andrà all'inferno che devo ancora leggere completa in 6 volumi un altro dei tantissimi manga portato da planet shojo sapete che l'ho recuperato nell'ultimo video acquisti manga andiamo avanti con pitch girl completo in 18 volumi portato da play press e sempre di play press abbiamo ayashi no ceres di yuatase e qui incomincia un po la raccolta delle opere di yuatase abbiamo infatti anche alice 19th c'era una volta in giappone e soprattutto fushigi yugi completo in 36 volumi yuatase è un'altra autrice che è stata molto importante negli anni 90 dello shojo si è cimentata sempre in tanti generi e ha avuto soprattutto coraggio di cambiare tematiche e già leggendo queste quattro opere si può notare quanto sia varia fushigi yugi è il suo manga più famoso e anche il più famoso in giappone però non è qui la mia opera preferita dell'autrice l'andremo a vedere tra poco dato che è un omnibus edition giusto riconoscere la grandissima importanza che ha avuto questa mangaka dagli anni 90 in poi per lo shojo qui di fianco invece abbiamo due miniserie dall'autrice delle situazioni di lui e lei proseguendo invece abbiamo sora log completo in quattro volumi ritorniamo in planet shojo addio stregone miniserie in due volumi di ozumi che va a reinterpretare la vita dei fratelli van gogh molto interessante qui invece abbiamo love order 200x di reiko mochizuki altro manga giosei sconosciuto portato da flashbook e abbiamo un'altra opera di mayu sakai che è rock in heaven e concludiamo con il volume conclusivo di kai onno che è magical lamp dietro questo angolo invece incominciamo con lovely complex di ayana kara una delle serie che in assoluto mi ha fatto più ridere un manga divertentissimo soprattutto per le grandi atmosfere e le gag che l'autrice riesce a creare anche per come riesce a deformare i vari visi sono un punto di forza grandissimo del manga abbiamo anche il volume speciale purtroppo è una serie che attualmente è un po' difficile da essere reperita ogni tanto però nell'usato si trova resta divertentissima e valida andiamo avanti con uno dei miei manga giosei preferiti in assoluto che è nodam cantabile di tomoko ninomiya sapete che ho un debole per i manga musicali nodam cantabile è sicuramente uno dei migliori che abbia letto se non addirittura il migliore è anche uno dei primi manga giosei che abbia letto in assoluto e ancora oggi dopo tanti anni resta uno dei miei preferiti non è solo una storia sulla musica è molto molto di più nodam cantabile è uno di quei titoli che dovrebbe essere ristampato però avrebbe sicuramente bisogno di una nuova edizione ne è uscita una due in uno attualmente in giappone vi ricordo che nodam cantabile è anche il manga giosei più venduto di sempre la ninomiya ha creato davvero una grande storia per il panorama andando avanti abbiamo invece il volume autoconclusivo calling you e ci spostiamo sopra con our little sister di akimi yoshida la mangaka di yasha la mangaka di banana fish che troveremo anche dopo questo suo manga giosei è in pronta slice of life davvero molto reale proprio il suo realismo a colpire del tutto differente rispetto alle altre opere citate ma che dimostra tutto il grande talento e la grande abilità della mangaka in questa fila vi dico già che troviamo dei manga giosei molto belli andando avanti con jamin no apollon nove volumi proposti per planet manga un'altra serie che mischia musica a romanticismo a parti più slice of life è uscito anche l'anime che è sakamichi no apollon la mangaka yuki kodoma è arrivata solamente con questo titolo ma in giappone continua a riscuotere attualmente grande successo potrebbe essere approfondita nei prossimi anni magari sempre da planet manga andiamo avanti con on and clover di chika umino la mangaka di un marzo da leoni è un suo manga giosei che arriva prima e anche lei un po' per quanto riguarda our little sister molto brava con il realismo non è da sottovalutare in on and clover anche la componente comica chika umino è molto brava nel creare le situazioni è sempre stato il suo grande punto di forza nelle opere e questa cosa si riflette anche in un marzo da leoni questi sono assolutamente tre manga giosei super super consigliati andiamo avanti invece con perfect world che invece non regge il confronto a mio parere con gli altri due però è stato in grado di trattare una tematica delicata come quella della disabilità e concludiamo con new love new life di yokunemo portato da ikari edizione autrice che abbiamo visto anche negli altri video che ho fatto che verrà approfondita in questo 2024 andiamo avanti con questo scomparto dove troviamo le opere di wataru yoshizumi partendo da cuori di menta marmalade boy nella vecchia edizione cappuccino e streghe per amore completo in 10 volumi continuando con la nuova edizione di marmalade boy little e alcune miniserie che sono sarà perché mi piaci cherish pxp solamente tu e spicy pink tutte queste fanno parte della collana planet shoujo e per la collana anche uscita di wataru yoshizumi comunque una delle autrici più importanti dello shoujo anni 90 arrivate qui in italia le sue due migliori opere sono assolutamente cuori di menta e marmalade boy sempre molto brava a dosare la parte romantica con la commedia le sue gag sono estremamente riconoscibili e sono anche molto contento che ultimamente planet manga stia ripuntando su questa mangaka è importante farla scoprire anche alle nuove generazioni andiamo avanti con delle opere di chio saito portate da star comics tantissimi anni fa abbiamo canon completo in 6 volumi first girl in 5 e la madonna della ghirlanda in 7 successivamente nel video collezione troveremo altre sue opere a fianco proseguiamo con otello a fianco abbiamo canoco gli appunti segreti e iniziamo con le opere di miobana abbiamo andante in 3 volumi partner sempre in 3 volumi e il giocattolo dei bambini in 10 con anche il volume autoconclusivo la villa dell'acqua qui sopra invece abbiamo anche la sua miniserie portata in 3 volumi con la bunco edition che è la miobana triology con l'isola dei cani non lasciare questa mano e per concludere fa così male miobana altra autrice molto importante nonostante io apprezzi maggiormente altre mangaka sempre di questi anni riconosco che ha una grande abilità nella scrittura e sa totalmente cambiare atmosfere nelle sue opere basti infatti leggere andante che parla principalmente di musica partner parla di fantascienza di crimine lo fai in modo molto adulto e giocattolo dei bambini non ha bisogno di tante presentazioni molto valida la sua triologia anche per avere approfondimenti sulla mangaka o anche per conoscerla si può infatti notare da questa miniserie quanto si è in grado di spaziare negli argomenti per concludere questo scomparto abbiamo tutte le opere uscite qui in Italia di Setonami Zushiro partendo dal gioco del gatto del topo Black Rose Alice e S portati da Ron in manga X-Day portato da Flashbook e Chocolatier che è anche la sua ultima opera portata qui in Italia da J-pop e il suo miglior manga in assoluto che è After School Nightmare come ho detto anche in altri video la ritengo un'autrice estremamente sottovalutata ha uno stile di disegno che si può benissimo considerare unico per come disegna i personaggi per come imposta le tavole ma soprattutto per ciò che tratta nei suoi manga parliamo davvero di un'autrice a 360 gradi tutte queste opere mi hanno lasciato un qualcosa e After School Nightmare per sceneggiatura per linea narrativa e soprattutto per i vari plot twist e per quanto osi da Mizushiro e cerchi di essere innovativo è assolutamente la sua miglior opera con anche un bel distacco rispetto alle altre se non la conoscete è un'autrice da scoprire assolutamente passiamo qui sotto e abbiamo tutte le opere di Io Sakisaka partendo da A un passo da te continuando con Strobegg e Amarsi e lasciarsi e non poteva mancare anche Sakura Saku attualmente in corso qui in Italia l'ultima sua opera in questo reparto ci sono prettamente opere a impronta sentimentale alcune più valide altre meno abbiamo anche Star Crossed in quattro volumi che sapete che non ho apprezzato molto il dolcissimo I Love You Baby di Yokomaki Living Room Matsunaga-san completo in 11 volumi purtroppo l'ho detto molte volte è uno shoujo che mi ha deluso parecchio negli ultimi anni lo reputo infatti purtroppo uno dei più deboli andiamo avanti con Last Game e Sunset Light e per concludere abbiamo la serie completa Il Primo Amore di Kao Miyazaka autrice che vorrei assolutamente approfondire quest'anno proseguendo qui dietro abbiamo Ororon completo in quattro volumi questo è il peggior manga shoujo che abbia letto ve lo dico anche così potete rimanere alla larga da questo titolo a fianco invece abbiamo Uragiri andiamo qua a sue autrici un po' più gotiche infatti abbiamo anche Angel Century di Kaori Yuki e la miniserie in quattro volumi Ludwig abbiamo visto prima dell'autrice anche Godchild sono arrivati comunque altri sui volumi autoconclusivi qui in Italia potrei recuperarli per avere tutto il suo materiale è un'autrice che disegna benissimo peccato per come conduce un po' la sceneggiatura perché a mio parere parte molto bene con le idee però non riesce a renderle al meglio infatti tra le serie coletto la migliore per me è Ludwig proprio in quattro volumi riesce ad esprimere in poche pagine tutto quello che è il suo valore e il suo potenziale tematiche care all'autrice che riescono a mischiarsi alla rientre interpretazione di favole e storie estremamente tragiche infatti è la sua rivisitazione delle favole dei fratelli Grimm il taglio qui della Yuki è spettacolare davvero e restiamo sempre in tema di gotico dove abbiamo le opere di Mazzurino abbiamo Vampire Knight completo in 19 volumi con la prima edizione uscita in Italia abbiamo poi la serie completa in 5 volumi Captive Heart e Merupori in 4 abbiamo poi qui la nuova edizione di Kamisama Kiss completa in 13 volumi completata recentemente da Star Comics ci voleva tantissimo la nuova edizione per Kamisama mischia molto molto bene folklore giapponese a parti più sentimentali anche d'azione la soprannaturale e dato appunto che è stata fatta questa nuova edizione io ve la consiglio anche nel caso qualcuno di voi volesse approcciarsi allo shoujo costa 9 euro per ogni volume è nuovissima costa 9 euro è morbidissima e vi andate a leggere uno shoujo veramente valido tra quelli scritti dopo il 2000 potete apprezzare anche quelli che sono i bellissimi disegni di Giulietta Suzuki salendo abbiamo sempre la nuova edizione di Mermaid Melody di Star Comics ne ho parlato anche più volte sul canale anche con video approfonditi un po' lo stesso discorso di Kamisama Kiss serviva assolutamente una nuova edizione quindi torniamo con Mermaid Melody un po' sul mao shoujo e per il mao shoujo non può mancare Ime Chan no Ribbon Megumi Mizuzawa uno dei manga mao shoujo più innovativi che abbia letto riesce a creare una storia all'apparenza semplice ma che in realtà è molto innovativa come si concentra al potere della protagonista come si mescalano i suoi disegni l'ho letto anche recentemente e mi ha colpito tantissimo insieme alle opere di Harina Tanemura lo metto tra i miei manga mao shoujo preferiti un'edizione purtroppo molto difficile da trovare anche questa è una Bunko Edition quindi un'edizione più piccolina portata al tempo per la collana Planet Shoujo di Panini guardate veramente quanti titoli validi sono stati portati qui in Italia nel corso degli anni scendendo invece in questo ripiano abbiamo tutto Fruits Basket nella prima edizione portata qui in Italia da Dinit quella completa in 23 volumi abbiamo anche i pop di Toru di Kyo e di Shigure Fruits Basket resterà sempre uno dei miei manga preferiti ho un legame speciale con quest'opera molto intenso fortissimo Fruits Basket mi ha donato ciò che pochi manga riescono a fare sensazioni emozioni fortissime Natsu Kitagaya proprio nel trattare le emozioni è fenomenale infatti posseggo tutto il suo materiale che troviamo dietro e abbiamo anche l'edizione inglese di Fruits Basket Another che è il sequel effettivo di Fruits Basket per ora inedito in Italia pubblicato solamente all'estero abbiamo visto tanti manga bellissimi anche prima però ci sono opere e opere e Fruits Basket è sicuramente una di quelle che mi ha donato di più abbiamo poi qui le altre opere di Natsu Kitagaya la sua prima che è Sogno e Illusione portata da Dinit era all'inizio della sua carriera quindi risulta molto acerba rispetto alle altre abbiamo poi L'Isselot e la foresta delle streghe per tutti i 5 volumi usciti manga con un potenziale altissimo purtroppo per ora interrotto per i problemi di salute di Natsu Kitagaya che ha ripreso appunto con Fruits Basket Another a pubblicare però non so se L'Isselot verrà mai continuato e qui a fianco troviamo un'altra opera bellissima che è Il Canto delle Stelle proposto per la colonna Planet Shoujo completo in 11 volumi un'altra storia possiamo dire alla Fruits Basket molto drammatica ma in certi sensi è ancora più riflessiva non è a livello di Fruits Basket proprio come complessità ma attenzione perché per me ci si avvicina molto se cercate manga riflessivi che vi donino un qualcosa Natsu Kitagaya è qui che vi aspetta per concludere questa parte abbiamo New York New York di Mari Moragawa completo in 4 volumi un altro dei tanti capolavori del manga shoujo uno dei migliori titoli degli anni 90 che lo shoujo abbia sfornato che va fuori a ogni tipo di schema alterna una storia sentimentale a una parte più psicopatica folle ed è anche il primo manga Shonenai di Mari Moragawa autrice che tra l'altro è importantissima in Giappone ha scritto altre opere super apprezzate che purtroppo non sono arrivate qui vengono trattate tematiche importantissime come viene toccata la tematica dell'omosessualità l'omofobia il razzismo la sessualità barriere che sono molto reali e come le tocca Mari Moragawa lo fa andando fino in fondo è anche per me un capolavoro perché è stato in grado di trattare argomenti finora mai trattati fino a quel momento degli anni 90 ad esempio Lights tematiche fortissime per quello che è uno dei capolavori dello shoujo manga degli anni 90 passiamo adesso ad un altro angolo di altre librerie abbiamo tutto Natsume degli Spiriti i 29 volumi usciti finora abbiamo anche il fanbook preso direttamente in Giappone a Mandarake e anche il Nendoroid di Nianco Sensei sempre preso in Giappone guardate che carino e sempre preso in Giappone il volume 25 in edizione speciale ancora sigillato all'interno abbiamo il piccolo ciondolo di Nianco Sensei Natsume degli Spiriti è un'altra serie a cui sono molto legato ed è assolutamente la serie shoujo sul folclore è identificativo e specifico dell'opera anche per la mangaka Yuki Midorikawa si vede tutta la sua passione per il paranormale si vede tutta la sua passione per il folclore rientrepe tra tutti quelli che sono i casi del paranormale andando a donare per ogni episodio presentato dei piccoli o grossi spunti di riflessione in base proprio al volume trattato anche una bellissima macro trama ma è un manga che per lo più riesce a donarti qualcosa grazie alle sue atmosfere salendo invece abbiamo Requiem of the Rose King completo in 17 volumi portato da Star Comics di Aya Kanno shoujo validissimo tra quelli usciti dopo il 2010 infatti qua abbiamo un'opera scritta tra il 2013 e il 2021 che si ispira e va a rienterpretare la tragedia di Shakespeare su Riccardo III tratta la guerra di successione al trono inglese la guerra delle rose elogiato anche dalla sensei Moto Agyo che l'ha definito come manga spettacolare quindi vi può far capire il calibro di quest'opera scendiamo qui sotto e abbiamo tutto Ana Yori Dango di Yoko Kamio 48 volumi usciti nell'unica edizione di Planet Manga che visivamente non è per niente bella ed è proprio per questo che richiediamo da così tanti anni una nuova edizione per quello che è attualmente il manga shoujo più venduto di sempre Yoko Kamio autrice apprezzatissima e leggendo appunto l'opera capisco il perché sia stato così apprezzato cercare di identificarsi in un manga questo avviene grazie alla personalità della protagonista Tsukushi credo che tante persone che hanno letto Ana Yori Dango si siano identificate in lei negli anni 90 tutto continuo della storia c'erano delle lettere scritte a Yoko Kamio che mi hanno particolarmente colpito persone che magari hanno incominciato a seguire il manga da piccole sono cresciute insieme alla stessa opera sempre si sono ritrovate in Tsukushi nel suo carattere nella sua forza di volontà l'essere una donna forte che non si fa abbattere da niente e da nessuno ha una determinazione incredibile ed è proprio questo perché Ana Yori Dango si ha così tanto venduto anche il creare situazioni così tanto diverse che poi hanno ispirato molti manga shoujo successivi i vari cambi di scenario nello slice of life abbiamo qualcosa che poi è stato ripreso sicuramente nel 2000 quindi l'importanza di Ana Yori Dango è innegabile purtroppo è difficilissimo da trovare completo insieme al grande sogno di Maya e una ragazza alla moda è attualmente una delle serie più difficili da essere reperita speriamo in quella che può essere una nuova edizione andiamo avanti con Arrivare a Te di Kaorushina dal volume 1 al volume 30 che abbiamo qui un altro dei manga shoujo più venduti di sempre infatti risulta attualmente tra i 10 manga shoujo più venduti non ha bisogno di tante presentazioni anche qui in Italia è famosissimo e per concludere questa parte abbiamo Attacker Yu adattato qui in Italia con il nome di Mileshiro in 3 volumi il manga di Makimura e Koizomi qui dietro invece troviamo Hot Jimmic completo in 12 volumi portato da Planet Manga e a fianco invece la collana amici di Star Comics uno dei primi esempi di far affermare lo shoujo manga qui in Italia primo volume infatti risale al 1997 e si può intendere come una rivista contenitore di manga shoujo infatti all'interno trovavamo pubblicati ad esempio Saint Tale Sailor V una ragazza alla moda Miracle Girls Creamy Mami pubblicati a puntate appunto come se fosse una rivista abbiamo tutti i volumi usciti da la collana amici e anche quelli speciali quindi quello di Creamy Mami quello di Saint Tale i 3 di Miracle Girls abbiamo anche il volume speciale di una ragazza alla moda di Storia di K che risale a molti anni prima dell'edizione in 8 volumi che abbiamo visto che invece già comprende le storie extra del manga l'unico modo fino a quel momento di leggere quest'opere era appunto la collana amici per la gran parte poi sono state create delle nuove edizioni ma la collana amici resta sempre un grande oggetto da collezione per ogni fan dello shoujo a fianco invece troviamo un'opera molto interessante per il Mao Shoujo di Mayu Sakai che è Momo completa in 7 volumi portata per Planet Shoujo e le altre opere di Yoko Kamio quindi Matsuri Special che in realtà è un manga shonen però l'ho messo vicino alle opere di Yoko Kamio e soprattutto Cat Street un'opera che viene dopo Anaglio Ridango e ovviamente ve l'ho consigliato più volte nei video una storia sull'accettazione a 360 gradi l'accettazione di se stessi del passato il riscatto per arrivare a un domani ancora più luminoso Cat Street porta un grande messaggio di speranza per tutti gli adolescenti che si fanno strada nell'età adulta di essere migliori e di trovare la propria strada nella vita tratta di grandi tematiche come la depressione la maturazione il bullismo le marginazioni le ansie il vittimismo tematiche comunque già trattate da Yoko Kamio anche in Ana Yoridango ma essendo questa una serie molto più breve in 8 volumi risulta anche in certi versi più funzionante se la Kamio è così riconosciuta in Giappone e così apprezzata ci sarà ovviamente un perché qui sopra invece troviamo un bacio a mezzanotte di Rin Mikimoto completo in 12 volumi il volume autoconclusivo Inno alle ragazze di Keiko Ichiguchi di K-Edizioni troveremo altre sue opere dopo e l'interessantissimo Parasite Pal di Takumi Shida salendo invece qua abbiamo Alice Academy che purtroppo vedete che è incompleto sto aspettando le ristampe di Goen che probabilmente non arriveranno mai quanto vorrei leggerlo ma appunto vedete che ci sono dei buchi spero prima o poi di trovare i volumi che mi servono perché è davvero un peccato che rimanga così a fianco invece troviamo le opere di Nagumo Ranaji Parfaiti che in 22 volumi e Haruhito in 11 altra autrice che sa dire la sua e sa creare dei manga molto convincenti continuiamo con due opere shoujo di Adachi che sono Slow Step e Let the Sunshine In in 7 volumi portata da Star Comics e in 5 volumi portata da Flashbook Adachi fantastico in ogni target che troviamo dimostra davvero di essere un autore a 360 gradi a fianco invece abbiamo Valmont di Chiyosaito la nuova edizione la Deluxe e due volumi unici uno di Kaori Ozaki che è Mermaid Prince e l'altro volume unico che è Dobugawa di Aoi Kebe passiamo ora a uno scomparto per me importantissimo dove abbiamo le opere di Yumiko Igarashi iniziando dall'edizione giapponese di Candy Candy la prima edizione del 70 completa nei suoi 9 volumi acquistata direttamente in Giappone da Mandarake questo lo posso definire uno dei più grandi pezzi della mia collezione shoujo perché Candy Candy è introvabile anche in Giappone questa è un'edizione che è davvero difficile da essere reperita quindi sì ho avuto un po' di fortuna anche nel trovarla Candy Candy si può ottenere solo se comprato in Giappone attualmente perché sappiamo non essere mai arrivato in volume in Tankobon in Italia è stato pubblicato tra virgolette pubblicato da Fabri Editore a partire dall'80 nei suoi fascicoli ma con una pubblicazione molto molto diversa che sicuramente non è la classica pubblicazione di Candy Candy e per ciò che è successo tra le due autrici questo è davvero un pezzo rarissimo infatti alcune persone nel video degli acquisti del Giappone dove era presente Candy Candy mi avevano chiesto perché avessi comprato una serie completa in giapponese probabilmente appunto non sapevano quanto fosse difficile reperire Candy Candy al di fuori del Giappone e proprio anche in Giappone è uno dei pezzi a cui più tengo della mia collezione sono davvero orgoglioso di mostrarvelo passiamo poi a altre opere di Yumiko Igarashi tra cui Giorgi con l'edizione di Magic Press e Meiem Angel i primi due volumi sono stati firmati da Yumiko Igarashi al Palermo Comic Con dell'anno scorso adesso comunque vi farò vedere il tutto poi abbiamo Coron de Pocle Rose Josephine Anna dai Capelli Rossi La Spada di Paros Anne e Anne e queste sono tutte le opere uscite qui in Italia di Yumiko Igarashi quindi le posseggo tutte posseggo anche alcuni volumi in lingua straniera come Romeo e Giulietta in spagnolo di Arechi e libro sempre di Arechi delle migliori favole di Yumiko Igarashi un libro come potete vedere davvero stupendo abbiamo la rivisitazione di fiabe importantissime da parte della Sensei che si possono ammirare quelli che sono i suoi straordinari disegni fa da sorta di libro illustrato ma anche da sorta di artbook questi invece sono i volumi di Georgie e di Meiem Angel firmati direttamente al Palermo Comic Con anche questi ovviamente sono due pezzi di cui vado fierissimo essendo una delle mie mangaka preferite abbiamo anche le due illustrazioni che firmava questa del Palermo Comic Con firmata il 17 settembre del 2023 speciale per i 55 anni di carriera della Sensei e qui sopra invece abbiamo quella più recente del Mega Con di Genova firmata invece il 2 marzo 2024 entrambe sono stupende come Waki Yamato anche Yumiko Igarashi fa parte del gruppo dell'Hokkaido quindi altre autrici oltre al gruppo 24 che riuscirono a rivoluzionare il manga shoujo e a dettare delle basi che poi vennero utilizzate per tutti i manga successivi a Igarashi si riconosce una grandissima importanza per lo shoujo manga nei canoni negli anni 70 e nella sua espressione andando avanti invece troviamo Miracle Girls nella sua nuova edizione e Saint Tale queste sono altre due nuove edizioni della collana amici che abbiamo visto in precedenza manca proprio la nuova edizione di Una ragazza alla moda in questo formato e chiudendo questa parte abbiamo le opere di Cieco Ara cioè la leggenda dell'arcobaleno e la sonata del vento completa in due volumi portata da GP ci spostiamo ora a uno degli angoli che tengo di più della mia collezione abbiamo quello dedicato alle clamp si è capito anche dai miei video sono tra le mie autrici preferite in generale per me hanno scritto tra i manga più belli in assoluto abbiamo ovviamente delle figures come quella di Sakura abbiamo quella di Magic Knight Rayart il Nendoroid di Yuko di XXXolic davvero stupendo e abbiamo tutte le mini figures che sono in realtà delle pedine di scacchi che raffigurano tutti i personaggi delle opere delle clamp abbiamo per esempio XXXolic Mokona Regiveda Magic Knight Rayart Tsubasa Sakura Clover Tokyo Babylon Chobits abbiamo davvero le opere più importanti delle clamp uscivano con la clamp collection che l'andremo a vedere dopo con tutti i suoi volumi appunto quando vi andrò a mostrare il reparto dei prodotti un pochino più ricercati qui abbiamo praticamente tutti i manga delle clamp partendo da Clover Tokyo Babylon La Principessa Bianca R.G. Veda con l'edizione bellissima di Magic Press nuova edizione di Sakura Magic Knight Rayart Clamp School Collection salendo abbiamo X e Tsubasa dietro ovviamente abbiamo anche le altre opere adesso tolgo tutto e ve le mostro e abbiamo però anche degli artbook particolari prima di tutto l'All About Clamp i due artbook di Tsubasa e spostandoci abbiamo quello di Chobits Your Eyes Only e il Clamp North Side e So Side le Clamp hanno davvero giocato un impatto su di me sulla mia carriera di lettore gigantesco sono grato a tutto l'universo che hanno creato ai meravigliosi personaggi che ci hanno accompagnato saranno sempre tra le mie autrici preferite e vi ricordo che ovviamente non hanno scritto solamente Shoujo abbiamo ad esempio anche uno Shonen che è Tsubasa e abbiamo anche dei seinen tra cui XXXolic che adesso vi mostro infatti qui dietro abbiamo Angelic Layer da Clion Lawful Drag o anche la vecchia edizione quella in tre volumi l'abbiamo vista prima Lawful Drag Store poi Il Ladro dalle Mille Facce Rex in volume unico come anche Miyuki in Wonderland tutto Chobits Wish in quattro volumi il sequel di Lawful Drag che è Drag & Drop XXXolic e XXXolic Ray appunto il suo sequel Mi Piaci Perché Mi Piaci il primo volume di Sakura in giapponese e anche Gate 7 in quattro volumi e qui sopra la leggenda di Chung Yang amo davvero tutte le loro opere mi hanno lasciato tutte un qualcosa anche quelle brevi volumi unici le Clamp sono delle autrici davvero geniali non potrò mai ringraziarle abbastanza per tutto il fantastico mondo che hanno creato per essere diventate con le loro opere così importanti nella mia vita è il momento ora di passare al reparto più alto in assoluto abbiamo le edizioni un pochino più grosse partendo da due titoli della showcase poi tutti gli altri li vedremo dietro che sono Gold Kingdom e Water Kingdom e Love My Life a fianco invece abbiamo i cinque volumi per ora usciti di Yasha di Hakimi Yoshida manca un volume sapete che lo ho anche inserito tra i migliori manga del 2023 abbiamo anche Banana Fish che è qua sopra che lo andremo a vedere tra poco a fianco Mio Marito Dorme Nel Freezer volume unico Cont 5 To Dream Of You sempre volume unico di Magico Kyo autrice che io apprezzo tantissimo che soprattutto per la showcase ha pubblicato dei grandi titoli a fianco invece 9 volumi usciti per ora della Corte dei Centodemoni di Ichiko Ima attualmente credo che sia il miglior Josei in corso qui in Italia se apprezzate Natsune degli Spiriti apprezzerete anche la Corte dei Centodemoni tratta del folklore giapponese paranormale soprannaturale storia molto riflessiva con dei bellissimi disegni della mangaka un po' dà anche vibes alla Mushishi o meglio a Mushishi che dà vibes alla Corte dei Centodemoni perché questo è iniziato prima e speriamo che Goen possa continuarlo e arrivare in pari con i volumi usciti in Giappone sembra essere ripreso regolarmente tra le opere in corso attualmente Josei pubblicate qui in Italia ve la consiglio tantissimo perché rimane impressa a fianco invece abbiamo la principessa Zaffiro di Osamu Tezuka con anche la Kyuposket Tezuka non ha inventato lo shoujo ma ha contribuito in modo significativo alla sua evoluzione soprattutto con la principessa Zaffiro diamogli la giusta importanza che merita perché negli anni 50 ha contribuito ad aumentare la popolarità dello shoujo in modo esponenziale un racconto epico di una principessa cui vengono accidentalmente dati cuori sia femminili che maschili in paradiso prima della nascita ha rappresentato la narrazione più sostenuta nella forma shoujo e ha dato allo shoujo manga un enorme aumento di popolarità in modo stilistico con il manga influenzato dalla Disney e dal ritmo dinamico che Tezuka aveva prodotto nel campo degli shonen negli ultimi 6 o 7 anni ed è riconosciuto proprio come mutamento un cambiamento il primo shoujo moderno andando a contestualizzare la parola moderno e fu anche molto importante perché proprio nei mutamenti il concetto di shoujo cambiò da quelli che fino a quel momento erano fumetti gag o strisce che cercavano di insegnare quello che fosse il buon comportamento invece la principessa Zaffiro cambiò le carte come ho detto anche poco fa Tezuka utilizzò una struttura narrativa che già utilizzava per quelli che erano i suoi manga shonen la redattò alla principessa Zaffiro ed è proprio queste che furono le grandi mutazioni però mi raccomando è sbagliato dire che Tezuka ha inventato lo shoujo perché prima di lui ci sono stati altri autori maschi che comunque andremo a vedere tra poco nella parte in cui vi parlo dei prodotti giapponesi più ricercati che hanno dettato gli stilemmi per tutto lo shoujo manga venire detto questo l'importanza della principessa Zaffiro nello shoujo manga è fondamentale sarà sempre fondamentale oltre che essere di per sé una storia splendida un manga shoujo a cui va riconosciuta la sua grandissima importanza per il target qua invece abbiamo gran parte dei titoli della collana showcase di Dinit appunto sullo shoujo e sul josei ci sono alcune eccezioni che sono dei seinen ad esempio memoria di un gentiluomo di Mo Yoko Anno che entra in questo video principalmente per due motivi il primo se no sarebbe crollato tutto se l'avessi tolto e il secondo perché avevo annunciato prima nel reparto di Mo Yoko Anno che vi avrei fatto vedere anche i suoi manga seinen pubblicati a fianco abbiamo invece un'autrice molto particolare sottovalutatissima che è Kiriko Nananan con blu e zucca maionese ne ho parlato più volte un'autrice molto particolare per come riesce a trattare le tematiche la psicologia infatti in Giappone è molto rinomata per dare un'impronta estremamente realistica alle sue opere e pensate che ha incominciato a pubblicare nel 93 sulla mitica rivista Garo è un'autrice che non ha assistenti perché considera i pannelli molto importanti e disegna infatti ogni tavola ogni pannello in modo che possa essere isolato perché sono fondamentali anche quelli possono trasmettere ogni singola emozione invece abbiamo le teatre di B e Debe di Asumiko Nakamura completi in due volumi a fianco invece di Rensuke Ushikiri Misumisu un manga ad impronta horror e thriller una vendetta sul bullismo autore che deve assolutamente essere approfondito con Italia comunque per ora tutte queste opere sono Giosei come anche le prossime che vediamo di Keiko Nishi abbiamo Karo Cibi e Scomparsa e Shiro Una vita insieme a un gatto continuando con le opere di Machiko Kyo che vi ho detto prima il diario di Anako e Kokun autrice che riesce molto a spaziare come tratta le tematiche della guerra che da sempre sono riuscite a contraddistinguere le sue opere lo fa davvero in modo molto reale crudo impattante sia Kokun sia il diario di Anako sono un pugno allo stomaco proprio con la crudezza con il quale vengono trattati i fatti e anche tra le migliori autrici pubblicate per la collana showcase di Dinit come ovviamente la grandissima Kyoko Okazaki qui per il Josei apriamo un capitolo per una mangaka a parte Helter Skelter e Pink le uniche due opere arrivate qui Kyoko Okazaki rappresenta tutta l'innovazione l'andare fuori dalle righe trattare delle tematiche anche scomode farlo tutto con il suo stile tutto con il suo tratto ad esempio nei suoi lavori nel corso degli anni hanno avuto un'enorme influenza per tutto il target Josei anche per le autrici che siamo andati a vedere come Mario Kazaki come Yoko Anno si vede la grande influenza di Kyoko Okazaki per come tratta la sessualità tematiche di genere gli abusi le droghe le gravidanze adolescenziali tratta tutto con una forma di realismo davvero pazzesca Kyoko Okazaki è una di quelle autrici che ha giocato una svolta fondamentale per il Josei Manga continuando abbiamo invece designer di Yukari Chijo abbiamo qua un titolo degli anni 70 per chi non conoscesse Yukari Chijo è un'autrice che ha fatto scuola a davvero tante mangaka è stata sua assistente ad esempio anche Yoshimi Uchida quindi la mangaka di Lidl e leggendo vari saggi sullo shoujo mi sono accorto appunto della grandissima maestria di questa mangaka che già a cavallo dagli anni 60 del 70 ha avuto un enorme impatto e spesso purtroppo è un'autrice di cui si parla davvero poco che si è arrivata per la collana showcase di Dinit è una cosa che mi rende davvero molto molto contento quel che resta del sogno un bellissimo volume unico anche questo un Josei del duo Nishokakyo Dai abbiamo invece il bambino di Dio anche questo un Josei uno dei manga più disturbanti assolutamente di Tomoko Yamashita abbiamo il volume unico Air la donna di Yudon avrei voluto dirti grazie molto emozionante e riflessivo e Hot Rod di Tako Tsumugi quante volte ve l'ho consigliato uno dei migliori titoli della collana showcase se non il migliore addirittura uno dei grandi successi dello shoujo manga degli anni 80 ed è l'opera più famosa appunto della Tsumugi è un manga che ha venduto milioni di copie ha avuto una grande importanza proprio nell'80 come ho detto la ribellione degli adolescenti alla società adulta è una di quelle storie di formazione che dovrebbero essere lette davvero da tutti un'opera potente che sa arrivare in modo diretto al cuore e per concludere i volumi della collana showcase abbiamo Grand Terror di Kanoko Inuki abbiamo visto la regina prima dello shoujo horror che era Chishinohara abbiamo qua invece la regina del manga horror questa è l'unica opera arrivata qui in Italia l'anno scorso da parte di Dinit che prende un altro grandissimo titolo come tutti questi per la collana showcase davvero facciamo i complimenti a Dinit per portarci questa collana per andare ad approfondire magari autrici che rimarrebbero inedite che puntano anche sulla nicchia ma che in realtà hanno fatto dei lavori eccezionali incredibili continuiamo con Golden Days che ha portato Goen in quattro volumi Mindbroke Mariko volume Josei portato da J-pop i volumi di Utena nella Perfect Edition di Star Comics più anche il suo sequel e l'Eternal Edition di Sailor Moon l'edizione più bella è un'assoluta uscita del manga di Sailor Moon ho anche vari pop tra cui questo fantastico di Black Lady che attualmente è radissimo da essere reperito è un'opera generazionale che non ha bisogno di tante presentazioni Sailor Moon non è tra i miei manga shoujo preferiti ma riconosco la sua grandissima importanza soprattutto la grande affermazione che ha dato al target l'aumento di popolarità e anche ovviamente le influenze perché tanti manga successivamente a Sailor Moon si sono ispirati dal manga di Naoko Takeuchi avrà i suoi mille difetti che sono anche evidenti ma Sailor Moon è Sailor Moon è innegabile l'impatto che abbia avuto sulle generazioni di quanto sia stato importante negli anni 90 è uno di quei titoli che ha fatto veramente della storia dello shoujo manga sempre di Sailor Moon posso mostrarvi un grandissimo pezzo che è la firma di Kazuko Tadano la dedica realizzata all'Etna Comics del 2018 per chi non lo sapesse è l'animatrice la character designer le prime due stagioni animate di Sailor Moon degli anni 90 abbiamo l'edizione inglese di Wake Up Sleeping Beauty un manga davvero molto bello in edito qui in Italia che pronostico da anni qui in Italia di un'autrice comunque ormai molto rinomata in Giappone che è Megumi Morino speriamo che qualche casa editrice punti sulla mangaka che farebbe davvero un buon colpaccio abbiamo poi qua i pop di Oz Club che posseguo nella mia collezione guardate che carini appunto sopra abbiamo l'edizione inglese di Oz Club con il suo box set dall'1 al 18 il manga di Biscoatori che ad oggi anche rimane uno dei manga più divertenti uno di quelli che più mi ha fatto ridere poi trovo geniale il vario cambio delle atmosfere c'è assolutamente bisogno di una ristampa o una nuova edizione di Oz Club qui in Italia nel caso masticate un po' di inglese questa edizione è qui che vi aspetta e non vi sto neanche a dire che la linea dei pop creati per Oz Club è una delle mie preferite siamo in un punto davvero alto della collezione quindi andrò abbastanza veloce abbiamo lì Sakura Gari di Yuatase manga Josei della mangaka che reputo la sua miglior opera in assoluto crudo spietato riflessivo Yuatase al massimo della sua forma artistica una gioia per gli occhi per quella che è una delle migliori miniserie di Josei di sempre andiamo avanti già prima che ovviamente era presente un altro degli shoujo manga degli anni 80 più belli in assoluto non ha bisogno di tante presentazioni Banana Fish una storia carica in tutto tra i personaggi meglio sviluppati nello shoujo a fianco abbiamo Baptism di Kazo Mez il mio shoujo horror preferito del maestro Mez una storia del tutto folle e inquietante provare per credere ci spostiamo con l'edizione francese di Shouagen Roku di Haruko Kumota anche di questo manga quante volte vi hanno parlato sul canale il manga sul rakugo purtroppo inedito qui in Italia e credo che resterà inedito ancora per svariati anni ma non si può non avere in collezione questo capolavoro ci spottiamo poi con Wotakoi a Likino la nuova edizione di Hello Spank portata da Dinit proteggere le streghe completo in tre volumi sempre di Haruko Kumota la grande traversata che l'ho messo anche nella mia top 10 manga del 2023 la processione funebre di Kei di Maki Gusumoto autrice che ha ispirato nello stile di disegno a Yazawa avete visto poco fa comparire le opere di Kaoru Tada le ho cambiate perché purtroppo non ci stavano tutte in quell'angolino le ho messe tutte qua per il videocollezione così le andiamo a vedere per bene Kaoru Tada è una mangaka che è venuta a mancare troppo presto all'età di 39 anni alla fine degli anni 90 era una delle trici più apprezzate fino a quel momento dello shoujo manga e la sua perdita per il target è stata davvero molto dura ha scritto però opere che sono rimaste nel cuore di moltissime persone iniziamo dal volume unico one shot non fare il figo portato recentemente da Sprea Comics contiene 4 storie brevi della mangaka molto godibile molto divertente peccato per l'edizione di Sprea Comics che è praticamente illegibile per quanto è dura andiamo avanti con il primo volume di Kiss Milicia nell'edizione di Goen sto aspettando che esca l'edizione nuova annunciata da Nippon Shock che uscirà ad aprile per il romics la full color di Kiss Milicia ho il primo volume dell'edizione di Goen perché veniva dato in bundle con anche Mio Paradise un po' sorta di precursore di Kiss Milicia sempre la tematica della musica del rock all'interno e anche qui si può vedere la sua grande bravura andando avanti abbiamo invece la miniserie in 4 volumi Deborah la rivale uno dei migliori manga in assoluto della mangaka per come tratta la tematica di genere la sessualità i comportamenti delle persone in quel contesto di società giapponese è un'opera che ho apprezzato moltissimo e andando avanti abbiamo invece Itazura Nakis in 12 volumi la sua pubblicazione è iniziata nel 1991 in Giappone ed è grazie proprio a questo manga che ha ottenuto il grandissimo successo sempre nel 90 ha ricevuto 4 adattamenti come live action dorama ma purtroppo rimasto incompleto proprio per la morte della mangaka avvenuta nel 99 Itazura Nakis è il suo lavoro a cui ha dedicato più tempo e tutta questa dedica al lavoro si vede anche nelle minime parti nei suoi disegni il tutto curato al massimo Kaoru Tada resterà sempre un'autrice grandissima troviamo gli altri volumi di Sprea Comics che ho messo qui che sono Polly Anna completo in tre volumi Juni Pepperina Piccole Donne e per D-Nit abbiamo Oshii in the Girl's Garden e di Keiko Ichiguchi 1945 in questo mobile invece ho messo tutte le opere in corso attualmente di pubblicazione in Italia abbiamo tutto Skip Beat uscito finora di Yoshiki Nakamura da sempre uno dei miei manga Shoji in corso preferiti vi ho fatto una testa tanta per Skip Beat nei video se ancora non avete recuperato recuperatelo Skip Beat è Skip Beat è arrivato praticamente a 50 volumi è ancora in corso ma di storie così ne esistono davvero poche qui andiamo abbastanza veloce perché sono praticamente tutte opere in corso iniziamo da Vanishing My First Love Ridendo Tra Le Nuvole concluso in 6 volumi e il suo sequel il primo volume ridendo in purgatorio poi A Sign of Affection 8 volumi finora La Principessa Sacrificale e Il Re delle Beste che invece devo completare Il Fiore e il Demone che sembra bloccato ormai da parte di Goen Anashin il primo volume Gondel Rasperry i 3 volumi usciti in Italia Il Mio Matrimonio Felice spostandoci con A Deccan Don't Call It Mystery di Yumi Tamura e della mangaka parleremo invece dopo nel reparto del Giappone La Casa del Sole i 6 volumi usciti per ora in Italia e tutti i volumi di Shirayuki dall'1 al 24 anche qui i volumi usciti per ora in Italia W Juliet e Studio Cabana qui invece troviamo altre opere che sono attualmente in corso ma che è sfacciato I 4 Fratelli di Yuzuki Ice Guy and Cool Girl Una Stanza di Felicità di Goen Run Away With Me Girl The King's Beast W Juliet e Studio Cabana siamo arrivati all'ultima parte del video collezione Shoujo quella dedicata ai prodotti più ricercati si mescolano tutti i miei prodotti giapponesi agli artbook ai prodotti ovviamente più difficili da essere reperiti partiamo proprio dal Clamp no Kiseki che vi ho anticipato prima con il reparto delle Clamp quando abbiamo visto le figures le pedine di scacchi che venivano appunto date con il Clamp no Kiseki qui dentro abbiamo la collezione completa con tutti i volumi mentre qui invece abbiamo due volumi sigillati che ho preso in Giappone essendo ancora sigillati non aperti con le pedine originali sono un grande pezzo vi mostro un pochino tutto nel dettaglio questo è proprio il Clamp no Kiseki realizzato per festeggiare il quindicesimo anniversario delle Clamp uscito in Giappone inizialmente io ho acquistato l'edizione francese perché si è uscito anche in Francia riportando il box tutti i fascicoli e tutte le pedine degli scacchi una volta aperto si compone in questo modo vediamo anche raffigurati i vari personaggi delle Clamp e poi troviamo i 12 volumi che completano l'edizione vi faccio vedere giusto appunto l'ultimo all'interno ci sono delle bellissime illustrazioni ci sono interviste alle Clamp vari accorgimenti segreti sulle opere comunque del materiale a 360 gradi per andare a scoprire ancora al meglio queste autrici è anche presente ovviamente la scacchiera per giocare con gli scacchi che rappresentano ve le rifaccio vedere le varie pedine delle Clamp anche sotto forma di figures e proseguiamo con i prodotti e arriviamo ai vari artbook prima di tutto abbiamo l'artbook di Vampire Knight di Mazzurino questo invece con l'edizione inglese che raccoglie le illustrazioni più belle a colori e anche in bianco e nero di Mazzurino andando avanti troviamo invece l'artbook di Yukari Chijo cartonato viene direttamente dal Giappone del suo manga più famoso che è Yukon Club in edito qui in Italia è stato pubblicato svariati anni fa in Giappone ed è anche uno dei pochi artbook che è uscito della grande Yukari Chijo vi ho spiegato prima con designer della sua grande importanza per lo shoujo manga e abbiamo anche il tempo di mostrare varie illustrazioni così potete accorgervi anche dei cambi di stili di queste autrici guardate che meravigliose illustrazioni di Yukari Chijo mangaka che è stata davvero importantissima sia nel 60 che nel 70 e negli anni a venire continuiamo invece con l'artbook edizione italiana di Marmalade Boy l'illustration book uscito grazie a Planet Manga l'artbook di Wataro Yushizumi in questo angolo abbiamo gran parte della storia dello shoujo manga adesso andremo a vedere tutto continuiamo ci stiamo piano piano avvicinando ai pezzi più rari abbiamo l'artbook con l'edizione giapponese di Harina Tanemura di Full Moon essendo la mia opera preferita della mangaka non potevo farmi scappare ovviamente l'artbook proseguiamo con quelli che sono davvero i pezzi molto molto ricercati partendo dall'artbook di Ryoko Ikeda ve lo mostro questa parte che si vede al meglio adesso andiamo un po' a parlare dell'artbook eccolo qui appare un pochino più sottile perché è un artbook molto speciale o meglio è un catalogo che non era acquistabile nelle librerie giapponesi si poteva acquistare solamente alla mostra del 1999 della Sensei all'interno 40 pagine e comprende le illustrazioni delle rose di Versailles della finestra di Orfeo anche delle sue opere un pochino più minori ma è particolare perché all'interno se infatti premo nelle prime pagine abbiamo l'autografo di Ryoko Ikeda la firma che va ad impreziosirlo e poi tutte quelle che sono le illustrazioni passando anche a quelle che possono essere le illustrazioni della finestra di Orfeo è attualmente uno dei più grandi pezzi per quanto riguarda gli artbook della mia collezione perché appunto si poteva acquistare solamente nel 1999 in Giappone alla mostra e poi non è più stato prodotto andiamo avanti questi sono separati abbiamo tre artbook di Keiko Takemiya il primo è questo pubblicato nel 90 abbiamo poi l'artbook del poema del vento degli alberi l'artbook dei frontespizzi di Keiko Takemiya eccoli qua questi tre meravigliosi artbook per quella che è in assoluto una delle mie mangaka preferite ve ne ho parlato prima con il poema del vento degli alberi con verso la terra ma vedere le sue illustrazioni con questa qualità è un qualcosa di indescrivibile ve ne mostro giusto qualcuna per farvi apprezzare un po' al tutto questo è l'artbook del poema del vento degli alberi abbiamo la rappresentazione di Gilbert guardate la bellezza di questi disegni veramente l'utilizzo di varie tecniche di disegno illustrazioni che risultano davvero spettacolari ce ne sono anche alcune in bianco e nero che vanno a prendere delle scene molto importanti per il manga vi mostro anche velocemente l'artbook dei frontespizzi che va a riprendere appunto quelli che sono tutti i frontespizzi delle opere di Keiko Takemiya dal suo debutto possiamo notare infatti inizialmente uno stile di disegno molto differente non dettagliato sicuramente come il poema del vento degli alberi o verso la terra vi mostro infatti qualche frontespizio proprio del poema del vento degli alberi è interessante questo artbook perché li comprende tutti i frontespizzi usciti per ogni edizione dei suoi manga quello invece del 1991 che è un altro grande pezzo vi ricordo sono stati acquistati tutti in giappone comprende una compilation possiamo dire di illustrazioni delle sue opere abbiamo quelle a tema fantascientifico abbiamo ovviamente il poema del vento degli alberi le sue opere pubblicate in precedenza qua per esempio abbiamo le bellissime illustrazioni di farò nohaka a colori e poi ovviamente torniamo al poema del vento e degli alberi che compone il resto dell'artbook in particolare perché è stato pubblicato anche il capitolo extra del poema del vento degli alberi che non vi andrò a mostrare che è quello che è stato pubblicato anche nell'edizione italiana di j-pop nell'ultimo il decimo volume andiamo avanti con l'artbook del 70 di waki yamato di una ragazza alla moda artbook ancora nel vecchio formato senza la sovracopertina alla sua età un po' usurato ma rappresenta un grande pezzo di storia perché stiamo parlando del primo artbook in assoluto uscito dell'opera andiamo avanti con altri artbook giapponesi abbiamo qua quello di nodam cantabile di tomokoninomiya non può mancare e le illustrazioni di tomokoninomiya a colori sono una gioia per gli occhi adesso non vi vado a mostrare tutte le illustrazioni per ogni artbook se no il video davvero non finirebbe più vi mostro quelle per magari opere che non si trovano facilmente che sono molto difficili da trovare illustrazioni prodotti che non si vedono facilmente abbiamo qua l'artbook di moiokohanno anche questo ovviamente con l'edizione giapponese davvero splendido con varie interviste all'interno per approfondire la mangaka al meglio e continuiamo perché qui abbiamo un pezzo davvero unico quello che posso considerare in assoluto uno dei pezzi più rari e ricercati della collezione dei manga shoujo l'artbook di makoto takahashi makotopia sempre di makoto takahashi abbiamo anche un suo volume giapponese questo è il primo artbook in assoluto uscito di makoto takahashi e rappresenta anche in giappone un pezzo rarissimo infatti ho trovato solamente una copia al mandara che anche ha una cifra importante ma chi è makoto takahashi qui serve andare un po' indietro negli anni arrivare negli anni 50 ci sono stati illustratori maschi come lo stesso makoto takahashi che hanno attinto alle bambole e alla moda europea per creare delle ragazze eleganti dagli occhi stellati che sarebbero poi arrivate a definire proprio il manga shoujo takahashi portò avanti quella che fu l'estetica del jojoga portando uno stile artistico sognante e lirico al mezzo fu fondamentale perché sviluppò tecniche narrative specifiche per i fumetti che sono cresciute dal contenuto delicato e guidato dalle emozioni della letteratura shoujo ad esempio come la figura di stile importantissima concetto che aprì per esempio la strada al modo per la composizione della pagina simile a un collage che sarebbe poi diventata caratteristica per gli anni 70 dello shoujo manga questo è un artbook che comprende le illustrazioni più belle del maestro Makoto Takashi senza di lui senza il suo apporto che ha dato col suo stile con la sua influenza lo shoujo manga come lo conosciamo oggi probabilmente non sarebbe mai esistito vi mostro anche il suo volume manga pubblicato in un'occasione speciale nel 99 in collaborazione con la sua mostra Girl Romance che si è tenuta a parco in Giappone potete notare appunto il suo stile di disegno e le varie influenze che appunto ha dettato andiamo avanti dove troviamo l'artbook per i 40 anni del grande sogno di maia di Suzue Miyuchi altro pezzo estremamente raro che devo mostrarvi assolutamente si compone in questo modo devo assolutamente mostrarvelo perché anche in Giappone ormai è sold out da tantissimi anni e sono dovuto andare in un mandarake specifico dove c'era una copia e per fortuna appunto l'ho trovata oltre ad esserci l'artbook del grande sogno di maia con le varie illustrazioni di Suzue Miyuchi ve ne mostro giusto qualcuna per farvi apprezzare la sua bellezza dei disegni a colori abbiamo la riproduzione originale del primo capitolo del grande sogno di maia quando venne pubblicato su rivista sono state riportate tutte le pagine a colori ed è appunto una riproduzione originale una meraviglia davvero questo pezzo andiamo avanti con altri pezzi l'artbook dei 50 anni di carriera di Moto Agio sempre della Sensei troviamo un altro artbook dedicato questa volta a tutte le sue opere sci-fi vi mostro giusto qualche illustrazione non vorrei davvero che il video fosse infinito guardate che meraviglia le illustrazioni di Moto Agio a colori quello di 50 anni di carriera è un po' più particolare è uscito recentemente in Giappone si trovano illustrazioni le opere in ordine cronologico quindi anche un ottimo materiale di approfondimento ci sono varie interviste con Moto Agio con anche altri autori autrici che parlano della Sensei parla anche per esempio di tutta l'importanza che hanno avuto le sue opere i suoi disegni come ha influenzato in generale lo shoujo manga e il manga in generale prodotto prezioso perché all'interno troviamo lo sketchbook originale in riproduzione della Sensei Moto Agio con tutti i suoi schizzi le bozze che poi hanno portato alla realizzazione dei suoi manga più famosi abbiamo qui per esempio le bozze del clan dei po' con tutti i commenti anche della mangaka queste sono le bozze originali e vedere poi che hanno preso forma con il manga effettivo è un processo stupendo anche vedere come ha pensato i vari personaggi questi sono prodotti pezzi che per me hanno un'importanza unica e per quanto riguarda Moto Agio ho da mostrarvi anche il suo meraviglioso Shikishi realizzato per la fiera del fumetto francese di Angoulême del 2024 di quest'anno dove era appunto presente la Sensei Moto Agio era disponibile solamente in fiera l'ho preso da un privato ed è davvero stupendo vederlo lì attaccato la grande iniziativa è stata da parte di Akatamanga e raffigura un'illustrazione di Barbara continuiamo con l'artbook di Ryoko Yamagishi altra autrice fondamentale del gruppo delle 24 dell'evoluzione dello Shoujo Manga vi consiglio ovviamente di andare a vedere il mio video più approfondito sul gruppo delle 24 se cimentate in più generi in più tematiche ed è riconosciuta come una delle più grandi autrici Shoujo abbiamo anche l'artbook della Sensei Yasuko Aoi che abbiamo visto all'inizio del video con Miriam Blue abbiamo un altro artbook speciale per i suoi 50 anni di carriera che comprende le sue illustrazioni più belle e altre interviste molto interessanti che mi sono anche servite come materiale proprio per il video del gruppo delle 24 in generale fondamentale come materiale di studio qui abbiamo l'ennesimo prodotto di Ryoku Ikeda con il suo artbook fantasy comprende all'interno illustrazioni di praticamente tutte le opere di Ryoku Ikeda però vorrei concentrarmi bene su questo pezzo che stiamo per andare a vedere stiamo parlando infatti qui di Junichi Nakara abbiamo qua il suo catalogo artbook speciale dai 100 anni dalla nascita e abbiamo anche un suo volume giapponese è difficilissimo spiegare in breve chi è Junichi Nakara perché ha avuto un'importanza fondamentale come anche per Makoto Takashi stiamo parlando di artisti così importanti senza di essi probabilmente non ci sarebbe mai stato lo shoujo e parliamo proprio di Junichi Nakara come pittore lirico vi mostro un po' quelle che sono le sue illustrazioni e vi parlo un attimo di Junichi Nakara i lavori fondamentali di Nakara vanno principalmente dagli anni 20 al 70 ebbe un ruolo importantissimo nel Jojoka e sviluppò notevolmente gli occhi dei personaggi dei manga shoujo dando influenza a tutto lo shoujo successivo degli anni a venire quando era adolescente era un creatore di bambole e sui grandi occhi raffigurati sembravano appartenere proprio a bambole francesi in grado di brillare come il vetro le prime ragazze disegnate da Nakara sono magre infatti sembrano essere più bambole che proprio esseri umani questo modello sarebbe poi diventato quello dell'eroina nei manga shoujo la grandezza e l'influenza di Junichi Nakara si ripercosse anche in Makoto Takashi che abbiamo visto prima e grandi occhi disegnati dal maestro si vedono ancora in tutte le riviste dei fumetti femminili occhi grandi sono diventati uno specchio dei desideri di diventare proprio delle bellissime eroine per l'accettazione proprio dell'immagine della ragazza poi ovviamente ci sarebbe tantissimo altro da dire su Junichi Nakara sul Jojoka purtroppo un videocollezione non è la sede adatta questo catalogo è un pezzo immenso come anche il suo picture book che comprende all'interno altre bellissime illustrazioni stiamo ormai per finire ho pochi prodotti da mostrarvi nel dettaglio innanzitutto ho messo qua l'official guidebook di Banana Fish di Akimi Yoshida con l'edizione italiana di Planet l'artbook di Yosaki Saka e qui abbiamo due pezzi da 90 come vedete sono ancora sigillati abbiamo una rivista degli anni 70 di Shokomi con in copertina Gilbert del poema del vento e degli alberi e all'interno proprio la pubblicazione del manga di Keiko Takemiya una rivista super vintage e super da collezione come anche la rivista del 1978 Anato Yume con in copertina il grande sogno di Maya e all'interno la pubblicazione del manga di Suzue Miyuchi sono le uniche due riviste importantissime che sono riuscito a portare dal Giappone sono anche due pezzi che mai mi sarei aspettato di trovare qui abbiamo un altro pezzo incredibile un volume di Hideko Mizuno firmato dalla Sensei volume che fa parte della sua linea di fiabe del folklore giapponese preso anche questo in Giappone da Mandarake e all'interno abbiamo la firma della Sensei Hideko Mizuno Hideko Mizuno è una delle prime creatrici donne di manga shoujo ed era anche una protage di Tezuka era l'unica donna che ha vissuto per un certo periodo nel famoso appartamento manga Tokiwazo nell'edificio di Tezuka e dentro la fine degli anni 60 sarebbe poi diventata una delle più importanti innovatrici nel campo manga anche qui ci sarebbe da parlare davvero tantissimo di De Komizuno stiamo per concludere abbiamo qua il MOOC di Toshi Kiara Queen of Elegance l'autrice più elegante del gruppo delle 24 altra autrice fondamentale abbiamo poi il volume speciale per i 40 anni d'anniversario di Yumitamura al Kaledioskop autrice di Don't Call It Mystery grande volume per approfondirla soprattutto per scoprirla al meglio perché qui in Italia non sono arrivate le sue opere più importanti che sono Basara che sono Seven Seeds qui dentro scoprirete tutto e quanto sia stata influente soprattutto dagli anni 80 in poi sempre di De Komizuno che abbiamo visto prima col volume firmato abbiamo il suo MOOC per concludere abbiamo l'artbook di Banana Fish Angel Eyes per concludere bene questo video collezione abbiamo dei volumi giapponesi che sono i volumi che sono stati più difficili anche da essere reperiti in Giappone di altri autrici e movimenti che hanno fatto la storia dello shoujo manga dei volumi giapponesi di Yoshiko nishitani abbiamo qua un volume di Mariko Iwadate di Eiko Mutsu e di Yumiko Tabuchi qui parliamo principalmente del movimento automatic movimento negli anni 70 di grande importanza che dava valore all'oggettistica alla moda e tutto ciò che potesse piacere alle ragazze giovani degli anni 70 in Giappone qui abbiamo due delle quattro autrici più importanti del movimento purtroppo non se ne parla mai ma è stato davvero importantissimo se da una parte c'erano le innovazioni del gruppo delle 24 dall'altra c'era anche l'Autometic e anche per quanto riguarda l'Autometic sarà uno dei prossimi video incentrati sullo shoujo sulla storia che uscirà sul canale è davvero un movimento straordinario che ha ispirato un'intera generazione di lettrici e di autrici Eiko Mutsu e Yumiko Tabuchi fanno parte del dominio di Mariko Iwadate dominio inteso come il modo il mondo realistico di rappresentazione questa è proprio l'origine del manga dell'Autometic storie in cui vediamo molti tipi diversi di sé in contesti di vita ordinaria siamo arrivati quindi alla fine di questo video collezione sui manga shoujo io spero che vi sia piaciuto vi sia servito vi ha fatto scoprire un qualcosa di nuovo o magari fatto appassionare a qualche autrice in particolare grazie per tutto il supporto che state dando al canale noi ci vediamo al prossimo video